Noi ci occuperemo di tutto l'iter formativo delle 300 ore, quindi faremo sia la parte diciamo teorica in aula, sia seguiremo i ragazzi attraverso un tutoraggio che verranno messi a fare i tirocini in varie realtà, anche con l'ottica che diceva il Presidente del Parco di valorizzare alcuni pezzetti del parco e vedere se riusciamo addirittura a farlo soffluire alla cittadinanza. Diventa fondamentale per dare speranza soprattutto a quei giovani che proventano da percorsi di disagio. Noi non a caso all'interno della valutazione abbiamo messo anche la possibilità di dare uno sbotto a ragazzi che hanno fatto comunità, che hanno fatto dei percorsi riabilitativi attraverso i servizi sociali, quindi questo diventa fondamentale perché si dà speranza a loro e ai territori che vivono. La cooperativa è una cooperativa sociale di tipo A e di tipo B, mi piace vederla come una cooperativa che oltre a fare servizi alle persone fa inserimento lavorativo a 360 gradi, creando anche impresa sociale in vari settori di produzione.